Quarto viaggio di Francesco in Africa. Dopo il Mozambico tappa in Madagascar, dove sabato 7 e domenica 8 settembre avrà due giorni pieni di appuntamenti. Il Papa dormirà a Villa Roma, nome dell'Annunziatura Apostolica guidata dal 2015 da Monsignor Paolo Rocco Gualtieri, originario di Supersano, Arcidiocesi di Lecce. Che paese troverà Papa Francesco? Un paese costituito in gran parte da giovani che hanno bisogno di essere incoraggiati per essere gli artefici della trasformazione del paese. Il Madagascar è stata colonia francese fino al 1960. Dopo un trentennio di dittatura, agli inizi degli anni 90 ha adottato un governo parlamentare, ma la conflittualità politica più volte ha innescato colpi di Stato impoverendo il paese. Il presidente Andri Razuelina a gennaio ha iniziato un secondo mandato non consecutivo. Secondo lei perché questo paese non riesce a risollevarsi? La corruzione, la diffusione della criminalità che è in aumento specialmente in questi ultimi anni. Io penso che sia stata l'instabilità politica a incidere molto sui costumi della società malgacea. La visita di Francesco in Madagascar è sentita anche da protestanti e musulmani. Il terreno dove il Santo Padre presiderà la veglia con i giovani e poi il giorno dopo presiderà la messa, appartiene, metà di questo terreno appartiene ad un imprenditore musulmano in metà all'Arcidiocesi della capitale di Antananarivo. Mi dicono che molti giovani musulmani hanno aderito e vogliono venire a partecipare alla veglia e anche alla messa.